carissimi amici e amiche ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo siamo arrivati alla puntata numero 9 e continuiamo questa sera il viaggio mi avviso molto molto importante nell'ambito del discernimento degli spiriti abbiamo una volta scorsa iniziato la lettura commentata di un testo molto antico ma molto attuale e molto importante la volta scorsa il testo di giovanni battista scaramelli datato 1800 ma come sappiamo i principi della vita spirituale una volta ben individuati sono universali e travalicano i confini del tempo della storia il più grande maestro a cui tra l'altro lo scaramelli deve praticamente quasi tutto perché attrae attinge quasi tutto da lì è santo ignazio di roiola che è vissuto come sappiamo nel secolo xvi quindi ai tempi della reazione diciamo così della chiesa cattolica alla riforma protestante e quindi conservano tutta la loro straordinaria attualità dentro il nostro percorso l'importanza di questa tappa siamo ancora nella prima parte del di questo ciclo di catechesi lo ricordo sempre la più importante diciamo così se vogliamo sarà la seconda quindi il percorso di guarigione di liberazione di conversione però la prima cosa come disse gesù nel vangelo è che sono non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati il problema è che la grande maggioranza dei malati di queste malattie quindi delle malattie spirituali e non sono consapevoli di esserlo quindi sono malati senza sapere di esserlo così come noi siamo peccatori purtroppo senza sapere di esserlo una tappa fondamentale nella crescita cristiana è la presa di coscienza del peccato questo l'abbiamo già accennato insomma no quindi dovremmo stiamo in una fase quindi se ricordate le puntate precedenti facciamo pochino come sempre una piccola carrellata non abbiamo cominciato a vedere all'inizio la scoperta di me stesso delle mie origini alle perite ricevute nell'esistenza dentro casa nei rapporti interpersonali da bambino adolescente e quindi a seguire le immagini di dio false e distorte che possono che io posso avere in qualche modo immagazzinato dall'ambiente dalle cose che ho vissuto e che condizionano anche il mio rapporto con dio o forse non ho mai fatto nascere un rapporto personale con dio e poi abbiamo cominciato a vedere qualcosa di quello che abbiamo fatto quindi del male che abbiamo prodotto con le nostre azioni quindi l'importanza anche poi di imparare a conoscerlo riconoscerlo abbiamo cominciato a vedere alcune dinamiche psicologiche alcuni comportamenti alcune reazioni che ne abbiamo alcune dinamiche distruttive si chiama così quella catechesi e le paure soprattutto ecco la la sorgente fontale di tutte le dinamiche distruttive che è questa grandissima paura che ci portiamo dietro abbiamo poi visto come introdotto alcune alcune delle regole di sant'ignazio su come il diavolo ci tenta al male quindi il fenomeno della tentazione che è fondamentalmente un inganno cioè speriamo di riuscire a smascherare questa prima parte poi vedremo quando parleremo dei temperamenti della finestra di ioari delle relazioni dei territori dei meccanismi di difesa alla fine di questa è ancora lunga la prima parte purtroppo però speriamo di uscire da questo da questa full immersion con una visione realistica di noi stessi che ci faccia andare da gesù come abbiamo ascoltato nel canto che introduce che ha introdotto questa puntata di questa sera dicendo gesù vieni me guariscimi basta che tocchi solo un lembo del tuo mantello ecco abbiamo detto nella prima puntata che questo vicero della samaritana che è ispirato un testo bellissimo dell'amico e maestro don fabio rosini che suggerisco a tutti quanti di leggere e abbiamo già parlato è uno delle fonti diciamo così di ispirazione anche quando non lo cito testualmente però anche proprio del senso di questo di questo percorso bene basta con l'introduzione che se no facciamo troppe chiacchiere andiamo avanti con lo scaramelli la volta scorsa abbiamo visto le prime grosse differenze tra l'azione dello spirito buono dello spirito divino e quello diabolico in ciò che attiene al nostro intelletto d'accordo oggi facciamo uno step seguente molto importante cioè come lo spirito buono e lo spirito diabolico agiscano in maniera diametralmente opposto in relazione alla volontà attenzione perché i principi di questa sera per questo tutto importante però sono veramente straordinari ne abbiamo la volta scorsa erano soltanto 6 oggi ce ne avremo audite audite 11 quindi 11 con i loro contrari quindi vi ho già detto che io mi sto come dire sto seguendo una sintesi che ho fatto del testo dello scaramelli che dovrebbe trovarsi in giro online molto molto lungo molto esteso e al termine chiaramente di queste conversazioni non prima lo scaramelli potete scaricarlo fin da adesso quindi nell'ultima puntata di cui parlerò di queste cose poi fare in modo di creare un link dove è possibile scaricare lo schema se uno quindi poi volesse riprendere e risentire o rilavorare insomma su queste cose che ci stiamo dicendo allora qual è il segno distintivo dello spirito di dio questo proprio da scriverselo sul netto d'accordo sempre questo il primo più importante di tutti e così il contrario è proprio il segno distintivo dello spirito del mare la pace ma la pace profonda è uno dei caratteri più sicuri dello spirito di dio dove la pace non c'è c'è sempre il sospetto che tutto ci sia meno che lo spirito di dio al contrario è caratteristica costante e certa della presenza dello spirito diabolico l'inquietudine il turbamento e l'agitazione questa triade maledetta attenzione inquietudine turbamento agitazione è un trittico malvagio quindi capiamo no cioè vedremo faccio una piccola sortita in avanti quando inizierà il percorso di guarigione vi dico subito una cosa il percorso di guarigione cammina su un binario attenzione che i treni camminano soltanto sui binari e non camminano su una rotaia sola ed è questo da un lato dovremo trovare tutte quante le modalità con cui chiedere e far intervenire al signore il signore nella nostra vita per guarirci per risanarci per convertirci per liberarci per santificarci e le dovremo aprire tutti questi canali attenzione però che al tempo stesso noi stessi dovremo lavorare cooperare ed essere evidentemente in maniera subordinata mente in maniera subordinata la grazia di dio attori della nostra guarigione perché dico questo perché se questa sera sto dicendo adesso non facciamo i compartimenti stagni è chiaro che come dire il ciclo di carichesi deve seguire un ordine per forza perché altrimenti diventa un ammasso di informazioni frastagliate e che non si raccapezza niente no però già che uno sente questa cosa da domani mattina allora se tu senti pace profonda sappi che è una buona ispirazione se senti il contrario non la secondare d'accordo seconda cosa caratteristica dello spirito di dio attenzione anche una cosa importantissima umiltà dove l'umiltà non c'è e qui attenzione questo è un parametro oggettivo di discernimento di noi e di fuori di noi noi non dobbiamo giudicare le persone mai ma avere dei criteri oggettivi di discernimento sì perché se io sento qualcuno conosco qualcuno e qualcuno mi si presenta come autorevole come un uomo di dio come una persona degna di fiducia e io come faccio a sapere se mi posso fidare oppure no non riguardo il cuore non lo so che cosa pensa potrebbe essere anche una persona in perfetta buona fede d'accordo ma perché le persone ingannate sono in perfetta buona fede quali sono le spie t'attento se non c'è l'umiltà qui siamo di fronte ad una cosa sospetta prima di fidarti ed affidarti fai attenzione perché dove c'è lo spirito di dio c'è sempre l'umiltà attenzione all'umiltà nelle sue due manifestazioni primo di intelletto consistente in una bassissima concezione di sé attenzione quella bassissima concezione di sé se noi ce l'abbiamo lo sappiamo e non dobbiamo dirlo a nessuno ma se noi ce l'abbiamo questa cosa traspare dal nostro operato non ce l'ha chi dice in pubblico ah io sono un grande peccatore io sono questo sono quest'altro no 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 non vi fidate mai perché tutti possono dire di essere dei grandi peccatori poi bisogna vedere se ci credono che sono dei grandi peccatori quindi umiltà sia di intelletto che di volontà cioè il disprezzo di sé il desiderio di essere disprezzati e attenzione la sottomissione agli altri ieri sera ho fatto un'ora santa ho fatto non è che l'ho fatta abbiamo ascoltato un'ora santa dove c'era il passo della lettera di San Paolo ai Romani del capitolo tredicesimo tredicesimo è un capitolo dove parla San Paolo ripete quasi come un mantra cioè in continuazione sottomessi 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 a chi? alle autorità alle autorità tutte tutte quante ecclesiastiche e civili parla di spana parla di cose allora io parlando con qualcuno dico adesso questa la metto online e ci metterò proprio come titolo a faccia apposta lo faccio adesso non mi ricordo lo vedo un attimo al volo dico essere sottomessi all'autorità gli ho dato questo titolo qualcosa del genere dico vuoi vedere che non se lo vede nessuno allora io diciamo che di media con un con 24 ore diciamo così di una cosa che sta online adesso non voglio fare lo splendido però diciamo che se è una cosa che va non tanto bene sta intorno alle 7-800 visualizzazioni se è una cosa che va bene in 24 ore può raggiungere anche 1500 visualizzazioni se sta spopolando in 24 ore può arrivare a 3000 visualizzazioni questi sono i miei modesti numeri c'è gente che che sfonda dei numeri a me non interessa tanto i numeri però mi servono anche a me no? quante visualizzazioni ha il video di ieri sera? 281 si chiama i rapporti con le autorità costituite io ero sicurissimo d'accordo? che avrebbe avuto poche visualizzazioni perché su questo tema siamo tutti quanti a no no e invece sì e questo tra l'altro è uno dei segni più sicuri di umiltà perché l'umiltà si dimostra nell'obbedienza nello stare sottomesso d'accordo? perché il superbo non riconosce nessuno sopra di sé non lo vuole riconoscere e attenzione è ovvio che il superbo non è superbo grossolano c'ha sempre 100.000 buone ragioni per non riconoscere e essere sottomesso l'autorità a cui dovrebbe starlo d'accordo? c'è una 100.000 di buona razione dice Scaramelli questo è il secondo segno attenzione certissimo della presenza di Dio addirittura il segno in assoluto più sicura in presenza del quale non si deve dubitare dell'origine divina di pensieri e ispirazioni e quindi dell'origine divina di quello che sta facendo quella presunta persona che si accredita come mandata dal Signore questo è un punto fondamentale e qual è l'opposto manifesta superbia o falsa umiltà allora la manifesta superbia si vede quando una persona è superba arrogante sprezzante parla male del prossimo direttamente o indirettamente quindi come dire dà l'impressione che il mondo è una banda di sciocchi l'unico che capisce qualcosa sono io d'accordo non lo dice chiaramente ma lo fa capire allora questi sono tutti brutti segnali e attenzione c'è anche la falsa umiltà che è quella ostentata a livello interiore quando si tratta di un pensiero che ci prende a noi la falsa umiltà attenzione questa è una cosa molto credo che l'abbiamo già parlato quando abbiamo visto alcune cose nelle puntate precedenti ma è il disprezzo di sé distruttivo quello che porta alla disperazione quella non è umiltà cioè l'umiltà è una cosa bellissima meravigliosa cioè tu stai davanti al Signore quando sei mosso dallo spirito buono e ti senti veramente povero davanti a lui cioè ti vedi la vita e ti dici ma Signore mio io purtroppo non ne combino una dritta cioè anche quando faccio qualcosa di buono è sempre proprio pasticciato imperfetto capito ma questo tu ne sei convinto dal profondo e non è un pensiero che ti suscita depressione o disperazione però cioè avverti proprio il tuo essere piccolo inadeguato lontano cioè proprio così davanti a Dio e lo sai qual è la sfia che questa è una cosa autentica che se qualcuno ti rimprovera lo accogli lo correggi cioè lo accogli se ti arriva una protezione l'accogli se ti arriva una lode non ti fa né caldo né freddo cioè non avverti dentro di te quel gongolare e neanche ne vai a ricercare perché la lode degli uomini non serve a niente non serve è meno che pagna è meno che vento è zero tra l'altro giudizio degli uomini non conta niente non conta zero contra giudizio di Dio non conta il giudizio degli uomini se tutti ti dicono se tutti ti dicono buono e tu sei cattivo tu cattivo rimani agli occhi del Signore se Dio pensa che tu sei buono e tutti pensano che tu sei cattivo tu cattivo rimani agli occhi del Signore terzo carattere dello Spirito buono in relazione alla volontà ce la faremo a finire l'ultima puntata speriamo ferma confidenza in Dio unita a santo timore di Lui attenzione ferma confidenza unito a santo timore a santo timore insieme esempio chi c'ha troppa confidenza perde davanti a Dio quel senso di riverenza di adorazione quindi fa dei gesti in consult io li vedo fare lo vi si fa tantissime volte e quindi passo davanti al tabernacolo non mi faccio manco un inchino perché tanto Gesù è amico mio faccio ciao Gesù e me ne passo di lungo e che passi di lungo cioè è chiaro che Gesù è tuo amico ma è anche il tuo Dio quindi tu gli dici ciao Gesù facendo la genufessione tanto per fare un esempio sciocco ferma confidenza unita al santo timore la misericordia di Dio non ci deve mai far dimenticare la sua giustizia scrive lo scaramelli che i peccatori confidano vanamente e temerariamente nella misericordia nella misericordia di Dio la proprietà opposta è la diffidenza in Dio o la vana sicurezza forme di diffidenza per esempio pensare che Dio un peccato non possa perdonarlo secondo diffidare che Dio aiuti nel cammino di santificazione falso la vana sicurezza l'abbiamo già accennato un'insensata fiducia nella misericordia di Dio che quando è insensata e non unita appunto al santo timore di Lui diventa in realtà un incentivo a peccare e senza manco troppi scrupoli quarta caratteristica attenzione anche questa è un altro aspetto fondamentale volontà pieghevole cioè duttile oppure docile flessibile non rigida viene dal diavolo invece una volontà recalcitrante accedere all'obbedienza caparbia proterva che non è disposta a mettersi in discussione che non ha sempre quell'atteggiamento cauto noi per quante cose sappiamo per quante cose possiamo essere più o meno sicuri ma a te chi te l'ha dette cioè quando poi si entra nelle nelle materie diciamo così spirituali la cautela deve essere super deve essere perché noi balbettiamo queste cose cioè non è che ci abbiamo l'evidenza assoluta di tante questioni allora la volontà pieghevole ha questa capacità di essere sempre aperta ad altro ad essere guidata ad essere condotta questo riguarda soprattutto la docilità e l'obbedienza nei confronti dei rappresentanti di Dio sia quelli diciamo così costituiti gerarchici sia per chi ce l'ha anche il confessore il direttore spirituale quindi questa inclinazione questa tendenza a sottomettere il proprio giudizio ad altri a non avere l'ultima parola a non costituirsi giudici di ultima istanza e andare dritti come treni che non te ferma nessuno ti sei messo in testa quella cosa sei convinto di quella cosa io dico sempre se scende il nostro signore Gesù dalla croce d'accordo tu continui ad andare avanti dritto per la tua strada ci sono persone come sono tante sono la volontà recalcitrante attenzione accedere all'obbedienza quindi anche qui quando non c'è l'obbedienza non andate io su sta cosa non voglio non voglio sentire questioni non è che non le voglio sentire io cioè non esiste nella chiesa cattolica questa cosa non c'è mai stata quando non si vede l'obbedienza è sempre qualcosa di sospetto sempre e lo scaramelli dice che la volontà recalcitrante accedere all'obbedienza che è il contrario della volontà pieghevole è uno dei segni più chiari dello spirito cattivo accompagnato da chiusura di coscienza e riluttanza a parlare dei propri problemi e tentazioni col direttore spirituale cosa che il demonio teme più che mai dato che basta svelare la tentazione per togliere ogni potere ricordate niente teme di più il demonio che di essere scoperto ma per essere scoperto questo lo vedremo anche quando parleremo della finestra di Ioari c'è l'io cieco c'è l'io cieco tu non te li vedi da solo gli inganni non te li vedi da solo le trappole in cui il signore in cui il diavolo ti sta spingendo ti sta facendo cadere tu devi avere l'umiltà di confrontarti di chiedere consiglio di chiedere a una persona che ti vede da fuori ma tu questa cosa come la vedi e lo devi ascoltare non devi andare lì che tu hai già deciso cioè tante volte persone che chiedevano la direzione spirituale vengono lì ti parla fanno la testa così nel sacco di tempo dopodiché appena tu provi a dirgli guarda che forse no 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 questo non c'è di che vogliamo parlare va bene figlio mio va bene figlio mio cioè se questa è una cosa cioè che voglio bene però non c'è perché tu non puoi venire qui a dirmi una montagna di cose aspettandoli semplicemente che io ti metta l'imprimato e ti dica bravo magari se è possibile molto molto volentieri ma se non è possibile non posso fare questo non posso non devo fare questo la quinta cosa attenzione rettitudine d'intenzione nell'operare cosa significa significa che un'azione che non sia in se stessa cattiva attenzione quindi un'azione di per sé fatta per Dio è buona fatta per diletto è carnale fatta per vanità è mondana fatta per fini torbidi è diabolica vogliamo prendere il digiuno tanto per fare un esempio il digiuno fatto per Dio è divino il digiuno fatto per la linea quindi perché devo essere bello e perfetto è carnale o è mondano per vanità e per importanza cioè se uno è semplicemente un gusto estetico quindi che voglio essere bello è mondano se è un digiuno perché io voglio essere bello per essere attraente seducente puntini puntini ha un fine particolare è carnale giusto? e c'è un digiuno diabolico? orca se c'è un digiuno diabolico certo che c'è un digiuno diabolico a parte le persone che cadono nell'anoressia quindi il caso il caso patologico ma ci sono anche dei digiuni fatti per fini cattivi cioè come mezzo di lotto di protesta l'abbiamo visto tante volte nel corso della storia per ottenere una cosa cattiva sciopero della fame sciopero della sete per ottenere una cosa cattiva quello è un digiuno diabolico quello lì quindi capite? il digiuno è un atto che a seconda del fine con cui lo compi anche Gesù dice nel Vangelo se fate il digiuno per essere visti dagli uomini quindi fine mondano per vanità per farti ritenere santo hai già ricevuto la tua ricompensa evidentemente quando non c'è questa rettitudine di intenzione ciascuna di queste intenzioni cattive viene dallo spirito cattivo quindi non basta vedere quello che si fa quando quello che si fa e anche se quello che si fa è un'azione apparentemente buona la stessa cosa vale con la preghiera cosa dice Gesù nel Vangelo quando pregate non dovete pregare con l'intenzione di farvi vedere capite? per esempio quando si prega in pubblico se possibile bisogna assolutamente cercare di evitare ogni cosa che possa in qualche modo attirare su di noi l'attenzione e far pensare a qualcuno che siamo santi quando non lo siamo ok quindi mai fare dei gesti esterni appariscenti o cose di questo genere perché falli quando sei in privato almeno sei sicuro cioè togli la possibilità perché se tu lo fai in pubblico e dici ma io lo faccio per amore di Dio sei sicuro? tu sei proprio sicuro? tu potresti dire al 100% che non c'è quella sottile compiacenza magari che non sei tanto consapevole che quello ti vede e dici ammazza questo che è santo guarda questo come prega oh mamma mia beato lui beata lei sesto carattere pazienza nelle tribolazioni tutte pazienza nelle tribolazioni pazienza nelle sofferenze del corpo cioè malattie dolori pene come le portiamo come le sopportiamo quelle che ci manda il Signore e quelle che abbracciamo per amore di Dio con spirito di benitenza le sofferenze del corpo le sofferenze dello spirito che sono molto peggiori di quelle del corpo le persecuzioni come va con le persecuzioni i disprezzi del prossimo le calunnie le umiliazioni le azioni lo spirito buono ti fa fare il pieno di queste cose e te le fa sopportare con pazienza per amore di Dio non è finito le sofferenze degli affetti perdita dei parenti quando ti muore una persona cara che fai? degli amici muore o ti o ti delude ti lascia i tradimenti hai mai avuto qualche tradimento qualche persona che ti ha tradito non soltanto da un punto di vista come dire marito-moglie adulterio una persona di cui ti fidavi una persona a cui gli hai fidato dei segreti di cui dicevi su questo ci posso mettere la mano sul fuoco e ti ha tradito una delle cose più brutte che possa succedere sul pianeta Terra Gesù l'ha avuta questa cosa Gesù l'ha avuto Giude Gesù tutte queste cose le ha conosciute tutte quante e poi le delusioni le delusioni quando qualcuno ti delude e come reagisci? finite? no ce n'è un'altra le sofferenze nei beni come va quando perdi il lavoro quando perdi dei beni quando stai in precarietà economica o quando stai in povertà quando il Signore ti prova su queste cose come va? vedete come cascano tutti gli asini tutti quelli che si pensano di essere già arrivati nella santità vai vai cominciamo a vedere cioè se tu sei santo queste sono tutte quante le caratteristiche dello Spirito Santo in tutte queste cose pazienza questo lo scrive San Paolo pazienza nelle tribolazioni è uno dei distintivi della santità allora quelli che sono perfetti scrive lo scaramelli godono di queste cose quindi si rallegrano quando gli arrivano e le desiderano quando non ci stanno i perfetti quelli che sono proficenti quindi che stanno camminando verso la santità le accettano abbracciano la croce quelli che sono principianti è un miracolo se si rassegnano brontolando d'accordo chi viene dallo Spirito cattivo cioè quando una persona è insofferente nei travagli piccoli o grandi sicuramente non è mossa dallo Spirito buono 100% lo sappia o non lo sappia ci crede o non ci crede settimo aspetto la mortificazione volontaria e l'abnegazione di sé temi oggi del tutto come dire fuori moda ma molto quaresimali questa questa catechesi capita in quaresima Gesù ha insegnato nel Vangelo che chi è come dire suo discepolo rinnega se stesso odia la sua vita in questo mondo San Paolo ha scritto tratto duramente il mio corpo lo riduco in schiavitù tutta quanta l'aspetto dell'ascesi della penitenza della mortificazione cristiana non sono caratteristiche appartenenti a epoche storiche passate siccome medievali erano masochisti non avevano capito come noi dottoroni contemporanei che il corpo è importante che ha una sua gravissima dignità e quindi dobbiamo sempre soltanto allisciarlo e trattarlo bene perché se no poi chi lo sa che succede quindi queste cose non ci riguardano più ma io ho molti dubbi perché tutte quante le persone che hanno camminato dietro il Signore non tutti quanti attraverso i supereroismi e le austerità insomma impressionanti che hanno compiuto alcuni santi c'è una proporzione c'è un itinerario c'è una crescita non tutte le forme di mortificazione sono compatibili con tutti i stati di vita queste sono cose di cui quando una persona comincia a camminare deve trovare modo di confrontarsi con il confessore cioè quindi non può però in se stessa in se stessa la mortificazione volontaria l'abnegazione di sé quindi la lotta contro le proprie passioni quindi è un evidentissimo segno dello spirito buono il contrario campo libero a tutte le passioni allora lo spirito cattivo gioca come il gatto con il topo alcuni esempi per esempio a seconda dei temperamenti a uno lo accende in continuazione la piccia dicono a Napoli con l'ira a un altro con la lussuria a un altro con la superbia a un altro con l'invidia a un altro con la gola cioè i sette vizi capitali che sono quelli che sono formalmente contrari ad ogni forma di mortificazione no? se io mortifico i sensi e le passioni la lussuria la lussuria crepa 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 l'ira crepa l'avarizia crepa l'accidia crepa l'invidia crepa la superbia pure ecco ottavo caratteristica sincerità verità e semplicità attenzione la sincerità si oppone formalmente alla doppiezza o all'inganno che è proprio tipico dello spirito cattivo essere sempre sinceri essere sinceri attenzione non significa assolutamente assolutamente dire tutto ma quello che si dice deve essere sempre vero secondo la veridicità la veridicità è il contrario della finzione e della frode terzo la semplicità che è il contrario della doppiezza e della simulazione del fare finta tutte quante queste cose sono proprie chiaramente del menzogniere del padre della menzogna per l'antonomasia il quale è ingannatore è un fraudolento è un doppio il nono punto questo è un altro punto clou la libertà di spirito che cosa è è la libertà da ogni forma di attaccamento questo è un punto proprio d'accordo mentre lo spirito cattivo aizza o porta sempre all'attaccamento o alle creature o alle cose materiali o anche alle cose spirituali una persona ammossa dallo spirito buono è distaccata il mio caro amico Don Fabio Rosini mi piace insomma ricordarlo questa mattina ha fatto una bellissima lezione ai sacerdoti della diocesi di Latina e sta parlandoci della parabola del seminatore bellissime lezioni il seme seminato sulle spine tutto ciò che soffoca ha detto delle cose stupende sul distacco 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 un uomo di dio ma non un prete questo vale per tutti una donna di dio non deve essere attaccato a nulla deve essere libero non tutti sono chiamati ad avere il distacco effettivo da creature e da beni uno che ha la moglie e i figli mi che le può buttare a mare una persona che deve vivere nel mondo e che non sta in una comunità religiosa deve lavorare deve possedere qualcosa deve cercare un conto a banca deve cercare qualche bene nella casa ce la deve avere la macchina pure ma il distacco affettivo è quando sentiamo attaccamento a qualcosa immediatamente devono alzarsi le antenne comprese le cose spirituali esempio non vedo gli esempi la persona che è attaccata ai diletti dell'orazione può essere un prete può essere un religioso può essere anche un naico io comincio a essere troppo attaccato alla preiera come dire ai diletti a stare davanti a Gesù se sta tanto bene e trascuro i miei doveri di parroco ma questa non è una cosa che viene dal Dio ma come ma io sto pregando che bellissimo no no non va bene se tu stai lontano dai dei doveri di parroco un religioso ma religioso sì dai religioso sì dipende dipende la preghiera ti fa trascurare l'adempimento dei doveri che tra l'altro il superiore e l'osservanza della regola questo non viene da Dio non viene da Dio c'hai la famiglia? mi credo se l'ha venuto in mente di stare una giornata intera in chiesa insomma ah no io devo pregar ho tante devozioni un po' non tutta la giornata in chiesa cioè noi ci attacchiamo a tutto quanto d'accordo cioè i grandi peccatori si attaccano ai vizi si attaccano ai piaceri si attaccano ai bagordi si attaccano a che ne so al gioco d'azzardo alle macchinette alle slot machine alle prostitute non lo so insomma no poi ci si raffinia poi si è attaccato ai beni poi si è attaccato alla casa poi si è attaccato agli affetti poi si è attaccato al padre spirituale poi si è attaccato a quel diletto spirituale lo spirito di Dio ci porta alla libertà voi siete stati chiamati alla libertà scrive San Paolo chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta scrive San Giacomo la legge della libertà quindi nei gradi più elevati di santità cessa anche l'attacco alle cose terrene oneste e alle creature al proprio pensiero e questo è il sacrificio più grande ai doni di Dio provate a immaginare una persona che abbia avuto esperienze autentiche del Signore straordinarie e se a un bel giorno il nostro Signore dice da oggi basta è la cosa peggio cioè più tremenda che possa succedere sarebbe cioè per soffrire di meno l'unico sistema era non averle mai avute perché piuttosto che perderle cioè però nostro Signore a qualcuno gliele ha date e a un certo punto nicht o per lunghi per i lunghi anni e poi è tornato o a qualcuno anche a tempo indeterminato e perché te lo togli perché vuole vedere perché tu non ti cioè in questo mondo tu non ti puoi attaccare ma ma cosa vedi Gesù Cristo ma cosa vedi la Madonna in carne e ossa non può attaccarti a questa cosa qui non va bene la prendi come una grazia del Signore è certo quando ce l'hai ne godi ne prendi tutta quanta la responsabilità se ho avuto un dono così grande do devo corrispondere perché il nostro Signore poi vedrà quello che fai non è che tu dici oh io ho visto la Madonna che bravo che sono ti attenta a te questo ti dà una responsabilità enorme da un punto di vista di dovere di santificarti e se poi te lo toglie fiat voluntas tua zitto e mosca chiaro? perché nessuno ha nessun diritto a una cosa di questo genere e in questa vita è comunque una cosa straordinaria in paradiso potremmo stare attaccati a tutti quanti i diletti santi che viveremo qui no qui dobbiamo essere sempre attaccati a una cosa sola che è la volontà di Dio e basta decimo quindi l'attaccamento alle creature alle cose anche spirituali è sempre sospetto sempre quando c'è attaccamento anche quando non è attaccamento a cose disordinate quantomeno stiamo dinanzi a persona molto lontana da un cammino seria di perfezione ancora altro segno dello spirito buono il desiderio di imitare Cristo o la Madonna quindi chi per quanto può li contempla e brama di imitarli ci prova non è detto che ci riesce molti eretici anche gli eretici spirituali i falsi mistici portano disprezzano l'imitazione di Cristo e quindi la fatica che si fa nel seguire le orme di un così grande maestro ma San Pietro ha scritto chi recita la liturgia delle ore è l'inno dei secondi vespri della domenica che per il tempo di quaresma sostituisce l'alleluia che è generalmente l'inno dei secondi vespri della domenica Cristo patì per noi lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme Cristo è un esempio da seguire è l'esempio con la E maiuscola ho l'ultima cosa ma non è l'ultima cosa in ordine di importanza la carità mansueta e beniglia l'amitezza unita all'amore la dolcezza e sapete quali sono le cose opposte a questo? uno è il falso zero lo zero disordinato attenzione figlioli mie cari il falso zero è quello pieno di impazienza di sdegno e di superbia anche nei confronti delle colpe altrui anche nei confronti dei problemi reali delle cose giuste ma quando tu attacchi le cose giuste con impazienza con sdegno e con superbia tu sei uno zimbello del diavolo perché quell'operazione non servirà a emendare le colpe altrui ma solo a rompere la pace e la carità fratella questo atteggiamento degenera sempre nella falsa carità e anche in alcuni comportamenti sempre sospetti quando si vedono queste cose non c'è mai lo spirito buono irritarsi per i difetti altrui occuparsi dei peccati degli altri la tendenza a criticare voi sapete che tra i mondali si dice una cosa che è mancanza di carità dirla non si può dire non si scandalizzi nessuno neanche nella forma non volgare cioè fatti gli affari tuoi non si dice perché non è una cosa gentile se si potesse trovare il modo per dirla in forma gentile quello che si potrebbe dire a chi è un po' in piccetto è occupati per favore per carità dei peccati tuoi e lascia che gli altri ciascuno si occupi a sua volta dei propri e non di quelli altrui d'accordo se si potesse trovare un modo caritatevole per poter ribattere questa cosa questa si potrebbe dire ok Gesù ha detto imparate da me che sono mite tumide di cuore quindi dove c'è benignità e mansuetudine lì c'è lui sempre è un'altra caratteristica cioè lo spirito santo e quindi i veri santi hanno dei modi delicati garbati dolci mansueti non fanno nessuno sconto sulla verità attenzione la verità portare la verità non significa essere alteri superbi sdegnati fustigatori tipo stupido non è detto cioè questa è una cosa che può diventare falso zego può fare più male che bene non si fa nessuno sconto alla verità ma i modi sono sempre quelli di Gesù mite ed umile di cuore benignità e mansuetudine allora ci abbiamo un altro pochino di tempo facciamo un altro paragrafo adesso non lo so se lo finiamo vediamo i modi con cui lo spirito buono opera nelle anime allora si tratta di sette punti questa è una sintesi quindi immaginate allora lo spirito divino anzitutto muove sempre a ciò che è buono onesto e santo quindi quando una cosa in se stessa non è buona non è onesta e non è santa non siamo mossi da spirito buono ora il problema è che questa mozione lo spirito lo spirito santo la realizza in infiniti differenti modi che dipendono dalle disposizioni soggettive dai temperamenti delle persone dalle circostanze concrete da come la persona è da quello che si porta dietro dalle cose che abbiamo visto nelle puntate precedenti ecco e quindi in concreto numero uno anzitutto ordinariamente lo spirito santo muova il bene in generale come primo acchitto ma non mostra in particolare il bene che vuole che sia eseguito perché perché vuole che la persona si cominci a mettere in cammino e ci arrivi lei a ciò che vuole in particolare anche qui chiedendo consiglio ripasso di quanto ho detto prima esempi cosa vuol dire un giovane sente la chiamata a consacrare la vita a Dio ah se sono un uomo la cosa è ancora più complicata perché se è una donna suora monaca nel lordo virginum rimango nel mondo senza prendermi nessun impegno stanno quattro possibilità se è un uomo c'è pure prete prete frate monaco di clausura non di clausura frate ordine religioso oppure che ne so un religioso di vita apostolica o rimango anche io nel mondo non è un uomo oppure uno sente la chiamata a farsi maggiormente santo sento di dover fare un cammino di perfezione sento che il signore vuole qualcosa di più da me cosa come uno sente la chiamata al matrimonio ma non trova ancora il principe azzurro o la principessa rossa però sente chiaramente la chiamata al matrimonio ecco allora queste ispirazioni trattandosi di cose buone oggettive ordinariamente vanno seguite ci si comincia a pregare sopra a chiedere al signore che ci aiuti e gradualmente dopo aver chiesto chiesto aiuto a Dio si chiede a consiglia a uomini dotti spirituali e prudenti aprendo la coscienza e ascoltando i loro consigli attenzione si tratta di consigli noi non possiamo e non dobbiamo mai andare a cercare neanche in uomini dotti saggi e sapienti uno che decida al posto nostro la persona che ti ascolta cioè vi faccio una confessione se un ragazzo c'ha la vocazione ma io credo che qualunque prete insomma parliamo anche tra noi se ne accorge subito d'accordo io me ne accorgo me ne accorgo ma non glielo posso dire non solo non glielo posso dire ma non glielo devo dire e non devo neanche cioè devo se hai il cuore aperto cominciare a mettergli qualche pulce nell'orecchio e poi se possibile se vedo che le pulce nell'orecchio fanno effetto cominciare a prospettargli le varie possibilità che si trovano nell'esistenza i vari cammini sollecitarlo sull'importanza che abbiamo noi quando siamo giovani di confrontarci con un possibile disegno di Dio ascoltare i richiami profondi del cuore quindi cosa desideri profondamente qual è quella cosa quel progetto che se ci pensi ti darà se ci pensi ma questo mi piacerebbe tantissimo e questa cosa ti dà pace anche se ti mette un po' paura una volta fatti gradualmente questi step poi si passa allo stesso capite questa è direzione spirituale per quanto mi riguarda non è dire tu c'è la vocazione vai al convento X insomma ho sentito dire qualche volta cose di questo genere personalmente se mi sbaglio il Signore mi illumina e sono prontissimo a ripensarci non farei mai una cosa di questo genere mai numero 2 a volte lo spirito buono muove il desiderio di alcune cose senza volerne in esecuzione in tutto o in parte quando pensiamo per esempio alla vicenda di Abramo Dio ad Abramo gli ha chiesto di sacrificare il figlio e l'ha portato fino al momento che stava con il coltello in mano poi gli ha detto fermati questo lo può fare anche con noi cioè ti chiede una cosa tu cominci a e ti costa tantissimo vuole vedere come reagisci se gliela dai una volta che tu gliela dai non te la togli più tante volte l'ho vista che se cose nella mia vita per esempio in alcuni istilla il desiderio grande del martirio e questi si offrono ma non in un momento così eh profondamente ma non moriranno mai i martiri però il Signore voleva da quelle persone che si offrissero come martiri ci sono persone che hanno la salute cagionevole e non potrebbero fare grandi ospedità e penitenze il Signore gli ispira il desiderio di grandi penitenze poi quando il Padre Spirito dice tutto è buono fare queste cose piccole però il Signore voleva che nel cuore quelle persone dicessero io ti offrire questo mondo e quest'altro speriamo che non gli sarà permesso e non lo faranno una persona povera grandi penitenze non le può fare una persona sposata voglio entrare in monastero in monastero non ci vuoi non ci entri ma il motivo per cui ti viene questa ispirazione che poi il confessore corregge è che forse il Signore si sta chiedendo compatibilmente con i doveri matrimoniali una vita di orazione adatta chiaramente al tuo stato un po' più intensa d'accordo ecco una persona spirituale desidero di grandi mortificazioni straordinarie perché vuole che affligga il corpo con una discreta mortificazione non con le austerità di San Pietro d'Alcantara insomma ma nemmeno semplicemente con la riduccia al cioccolatino che per carità già è qualcosa attenzione un altro segno molto importante lo Spirito Divino ordinariamente procede in questo modo se trova un'anima già avviata o buona la muove con pace con tranquillità spiana le difficoltà infonde coraggio e vigore se trova uno Spirito ribelle o non avviato nel cammino verso la Santità fa il contrario lo scuote e lo scuote a volte severamente timore della morte timore del giudizio di Dio timore dell'inferno lo Spirito del Diavolo attenzione che fa il contrario perché lo Spirito cattivo se una persona è buona e come dire ben disposta lo Spirito cattivo usa le maniere forti con la persona buona e le maniere melliflue con la persona pertinace non buona quindi lo Spirito buono è condiscendente con i giusti severo con i peccatori lo Spirito cattivo è duro con i giusti e condiscendente con i peccatori quarto punto lo Spirito Santo divino opera diversamente con le anime buone alcune le muove più attraverso la dolcezza altre più attraverso la fortezza generalmente ma questo non è un dogma di fede generalmente con le donne opera con dolcezza con gli uomini opera con fortezza quando si hanno dei casi di preghiera infusa ancora non so se avremo modo di parlare in questo ciclo di catechesi di preghiera infusa tanto per capirci la preghiera infusa è quella preghiera profonda a cui non arriviamo con i nostri sforzi quindi a forza di braccio dice la Santa Teresa ma che tu ti metti in orazione e quasi istantaneamente entri in preghiera molto profonda chi l'ha vissuto lo capisce quindi è proprio il segno di discernimento che comincia questa preghiera senza che ci sia una causa adeguata e l'effetto di questa è la trasformazione in meglio quindi sempre in maggiore virtù dell'anime che la vive infine attenzione a volte lo spirito buono si nasconde e lascia l'anima arida e ottenebrata per suo maggior bene e questo lo fa a tutti i livelli con i principianti perché i principianti che le conoscono il Signore si attaccano subito ai diretti che lui concede all'inizio e arriva il momento in cui bisogna staccarli dal seno d'accordo staccarli ecco stop quelli che stanno provvedendo nel cammino della perfezione lo stesso devono essere liberati dagli attaccamenti disordinati ai piaceri che ci sono anche nella vita spirituale e a se stessi quindi a fare le cose perché gli piace perché ci trovano la compiacenza con quelli che tendono la perfezione li lascia per tempi più o meno lunghi in aridità o abbandoni ma questo perché è la preparazione prossima all'ultimo grado della vita interiore che è l'unione mistica con Dio ok per i direttori spirituali quando una persona è consolata deve essere moderata quando una persona è desolata deve essere incoraggiata bene speriamo che è aumentato un pochino il discernimento per oggi poi quando ci saranno certamente le dispense a disposizione si potrà ritornare e rivedere queste cose non restano sentendone una volta bisogna poi rimeditarle e ruminarle però penso che concorderà chi ha sentito queste cose con me che contribuiscono non poco a conoscere qualcosa di noi stessi e soprattutto tutto ciò che si muove nell'intimo del nostro cuore ci vediamo se ti vuole la prossima settimana un buon fine settimana a tutti Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga a presto a presto a presto